Oggi è il compleanno di Tommaso Zorzi e questa mattina, mostrando ai propri follower i palloncini ricevuti dai fan, ha inquadrato per errore e per solo mezzo secondo un uomo alle sue spalle che, in piedi davanti al letto, si stava rimettendo le mutande. La storia incriminata dura davvero mezzo secondo e non si vede nulla, ma indubbiamente online è scattato il totonome. Chi è l'uomo misterioso che presumibilmente ha passato la notte a casa di Tommaso Zorzi? Single da molto, il vincitore del grande fratello Vip poco dopo essere uscito dalla casa ha dichiarato «comunque io non posso continuare a essere single». Non si può, bisogna risolvere questa questione. Che sia arrivato per lui l'uomo giusto proprio il giorno del suo compleanno? O quell'uomo è semplicemente un amico che ha raggiunto casa di Tommaso la mattina per cambiarsi le mutanade? Voi cosa ne pensate? Anche voi se volete potete andare a cambarvi le mutande da Tommaso.